Salve a tutti ragazzi, siamo in un nuovissimo video, sono Peppe Joe Gamers e siamo questa volta su Minecraft Playstation 4 Edition e incominciamo i nostri primi video di gameplay Ok, ci chiameremo Peppe Joe Staccato Gamers Gamers Staccato Survival Ecco qua, e ci siamo Supervenza, modalità Mettiamo facile però Poi in partita mettiamo offline Vediamo Mettiamo accelerazione classica Poi leggere la struttura Sì Ehm, va bene così raga Possiamo incominciare con il nostro mondo Ah, bellissimo raga Siamo sporati proprio vicinissimo a un villaggio Proprio vicinissimi a un villaggio Cavolo la te Ehm Qui siamo lì, c'è 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 tutto Non ci serve più questo Vediamo se converso no Che è bello Fermati Ah sì, bellissimo Allora, tu c'è qualcosa da armi? No Ehm, vediamo Tu prete No Ehm Vediamo un po' Qui dentro non c'è un cavolo Ehm Ah sì Qui dentro ci sono Il prossimo Sì Raga Siamo straricchi del cavolo Cioè Voi vi rendete conto Che già ci abbiamo tutto Perché ci sono Involta anche la cassa Beh ragazzi Direi di fare la cassa Già qui Senza che c'è Cos'è un'olio gigantesca Ah Trovamente la nostra casa Sarà quella più illuminata Di tutte Perché loro non c'erano le porte Niente Nulla Allora Se ne ho indeciso Fra questa Che mi trovo anche bello Che appena che esco Già trovo Tutti i campi Crescite Di cactus Oh Che cazzo Ecco C'è Villager Perché cazzo Mettete Una farm Qui sopra Boh Vabbè Se ne ho indeciso Quindi Tra quella E Anche Quest'altra Che è abbastanza Troppa Però qua Questo non serve meglio Perché Ci abbiamo Sia Il pozzo D'acqua A fianco Però Che c'è C'è Allora Artigiano Tu mi dai Speranti Ragazzi Siamo Fare qui Ok Ci faremo qui La nostra casa Benissimo Possiamo incominciare a mettere le cose importanti qui Casomai Tre di pane Me ne porterò E Incominciamo a Spagare un po' di cose A trovare qualcosa Diciamo Questo esame non mi servono sempre Allora Allora Incominciamo Prima A Con la nostra Quanti cazzo di ospiti tengo qua dentro Incominciamo prima Con La ristrutturazione Allora Allora Cominciamo un po' Così per Più o meno Prendere Un'opera Ora sempre facciamo Di qui Tutte patate Direi Poi Facciamo Di qui Anche Siamo tutte patate Sì Siamo tutte patate Altre patate E possiamo fare Di qui Invece Tutto Grano Diamo che ci sta Un grano Ancora che deve crescere Però Deve stare Meglio Vabbè Diciamo che qui Ancora Tutto Grano C'è C'è Un grano Perché Quando Tu non giochi Ad un mondo Le cose si affuppano Troppo Cioè Intanto Essendo già qua Dei mostri Li Stiamo Io lontani Dando Questi semi Me li prendo Il pozzo Infinito Allora Questa Sarà la nostra Casubola Incominciamo a mettere Questi qui E Borgiamoci Un po' Di pane Ragazzi Io direi Di raccogliere Già Un po' Di legname Un po' Così Infatti Diciamo Nel deserto Totale E legname Lo troviamo Nell'acqua Sì Nell'acqua Si trova E Legname No Vaffanculo Che Nell'acqua Ragazzi Direi Di Andare un po' Di ricerca Andare sempre Verso nord E Trovare Legname No Non ho capito Mi sono massacrato Per un salto Di due Ok Fatti cavale Forza Sì Bravo Bra No Che cazzo Mi ha dato Il mio pane Vaffanculo No Peccato C'è Non c'è Un cazzo Su questo mondo Ci ho capito Cioè Tu ci fai Sponare Vice un villaggio Però Un albero Ce lo dai Porca vacca Ce l'ho capito Vabbè Raga Facciamo Prima di Struggere Le case Dei Milici E poi Ecco Continuiamo 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 Vabbè Distuggiamo Le case Dei Milici Facciamo Prima L'avanzi Però Io devo Fare Soltanto La scena Mi Serviva Una Porta No No Non è Questa No Bevati Cazzo Guardi Soltanto La Rosetta Laga Proprio Piccola Soltanto Solo Un Servizio A me Dispiace Faccio Solo I Video Di L'avanzi Davanti Il Cazzo Stringo La Casa Io Ragazzi Faccio A me Dispiace Comunque Fa Ma Ci L'abbiamo Già Questa 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 Devevo Fare In Questo Modo Così Pa Questa Fa Pa Poi Poi Direi Di Farci Una Doppia Porta Direi Ti chiesti Per lo Scambio C'è Tu Mi dai Tre pezzi Di pane Per uno Smeraldo Uno Smeraldo Uno Smeraldo Cioè Se tu Ti devi comprare Allo Smeraldo Ti servono Il Big Money E basta E tu Io ti do Allo Smeraldo E Mi dai Solo Tre pezzi Di pane Ma che Cazzo Come direi Di uccidere Qualche Animale Allora Questo Maiale Lo chiamerò Peppa Pig E Quest'altro Maiale Lo chiamerò Lo chiamerò Carmela Ciao Carmela Come sai Maiale Guarda è triste Carmela Muori Carmela Muori Allora Invece Ma questo qua Poi chiamerò Gigi Eh Gigi 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 Muori Gigi Muori Gigi Grazie Gigi Muori Gigi Le Gigi Ci sono Siete gemelli Raga Ok Un altro Gigi Gigi Muori Gigi Muori Ok Ci possiamo Fare già Un letto Allora Ragazzi Come Primo video Di Gameplay Su Minecraft Direi Che è tutto Perché 15 minuti Sono per scadere Come al solito Mettete Mi piace Condividete il video Se lo volete condividere Su Facebook O su qualche altra cosa Poi Iscrivetevi Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi Perché Ve lo vedete Faccio dei video al giorno E la domenica 3 E tre Come questi tre creeper Che adesso Vi devono rompere il cazzo Vabbè Si sono Ci si fra di loro Per questo video È tutto Ci Vi vediamo al Prossimo Video